Una schifessa, che avevamo bisogno di medici, e invece non c'è proprio niente, se ti è andato in ospedale non ti riceve, se ti è andato a farti una visita a un fiantino, niente. Una vergogna, perché i medici dovrebbero essere sempre, le persone non è che si amarrano solamente quando loro sono a lavoro, in qualsiasi momento avremo bisogno. Che è una schifessa, perché non va bene, i medici dovrebbero salvare le vite, non fare scioppe. I cittadini sono molto arrabbiati per il fatto che oltre 3.000 medici di base incrocino le braccia mercoledì e giovedì. All'ingresso degli ambulatori, l'avviso ai pazienti con il suggerimento di recarsi al pronto soccorso per prestazioni che non siano visite domiciliari urgenti. Mica tutti possono andare al pronto soccorso, un anziano specialmente, cavolo. Dovrebbero fare qualche cosa in protesta, però non assentarsi, per esempio, dallo studio medico. Quando uno fa scioppe, chi ne fa le spese è sempre il cittadino. Alla base della protesta, l'avvertenza che contrappone le rappresentanze della categoria alla Regione sulle regole inerenti alle medicine di gruppo integrate, la mancanza di cure palliative H24, il ricorso a dottori privati nelle case di riposo e gli ospedali di comunità. Preoccupata l'Associazione degli Anziani e Pensionati di Confartigianato del Veneto, che denuncia come proprio gli anziani rischino di essere le vere vittime di una contrapposizione tra medici di medicina generale e la Regione. Se hanno deciso così, dobbiamo adattarci. Ormai noi contiamo meno di zero, paghiamo solo le tasse e basta.